Il maestro di Mr. Bianco Giovanni Emanuele Mirulle è stato chiamato per dirigere la banda dell'Associazione Arma Aeronautica di Acireale, che ha tenuto un concerto di beneficenza di marcette militari e caratteristiche. Emanuele è figlio d'arte, il padre Agatino Mirulle è infatti insegnante di musica, oltre che direttore dell'Associazione Musicale di Mr. Bianco e del corpo bandistico cittadino e la New Royal Big Band. Un'opportunità preziosa per il giovane musicista, che già in altre occasioni si era distinto per le sue qualità artistiche.